Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Orcu Verde In questo video vi farò vedere finalmente la duplicazione delle auto che ieri non mi riusciva Adesso vi spiego anche perché Funzionante per la Playstation 4, Xbox One e PC con la patch 1.30 Questo glitch funziona solamente con queste 6 auto di Benis Ragazzi però lo sbaglio è che praticamente io le avevo potenziate quindi modificate al massimo da Benis Non dovete modificarle da Benis ma dovete modificarle allo Santos Custom normale Altrimenti questo glitch non uscirà Infatti ragazzi è per questo che a me non usciva il glitch Quindi lo ripeto anche a voi Non potenziate l'auto da Benis Quindi al limite la ricomprate Quindi una volta che l'avete potenziata al massimo in modo che il valore di quando la potete vendere poi sia più alto Una volta che avete potenziato la vostra auto al massimo allo Santos Custom dovete aprire il menu di pausa Andare su online e avviare una gara che dovete scaricare tramite questo check lab che vi lascerò il link in descrizione Questa gara c'è sia per Playstation 4, Xbox One e PC Sono diverse Quindi una volta che siete nelle impostazioni della gara dovete semplicemente lasciare tutto così com'è come tipo auto, mascol mi raccomando Gara GTA e dovete semplicemente avviare la gara da solo Una volta che vi dirà di scegliere le auto dovete scegliere l'auto che avete potenziato al massimo dentro allo Santos Custom Quindi avviate la gara E cosa dovete fare quando siete all'interno della gara? Semplicemente dovete entrare dentro l'officina di Benis La porta si aprirà se il glitch funziona ancora Che cosa dovete fare? Dovete prendere il telefono, premere X, quadrato Poi quando vi dirà di lasciare l'attività dovete entrare dentro l'officina di Benis Nel momento in cui state entrando, un momento prima, quindi un secondo prima Dovete premere X per lasciare l'attività Dovete praticamente essere veloci Fatto ciò dovete assicurarvi di vedere la scritta in basso a destra Albani, ovvero la vostra auto praticamente E se è così vuol dire che il glitch è uscito correttamente Quindi sarete spawnati automaticamente all'interno dell'officina di Benis Nella Free Mod E quindi ragazzi avete già duplicato la vostra auto Quindi dovete semplicemente o vendere l'auto al prezzo di più o meno 190.000 dollari 150, dipende dal valore delle modifiche insomma Oppure applicargli il segnalatore e l'assicurazione In modo che rimanga assicurata nel vostro garage Io ragazzi questa l'ho venduta Potete fare anche moltissimi soldi duplicando 4 garage Quindi potete fare quello che volete ragazzi Potete farlo all'infinito questo glitch fino a quando funziona Come vedete ragazzi l'auto non l'ho persa Quindi tranquilli che l'auto non si perde Vi ricordo che per vendere le auto dovete aspettare per forza 45-48 minuti Quindi non si possono vendere prima purtroppo L'unico pezzo, il pezzo più brutto del glitch è quando non vi esce Che dovete entrare nella fiscina di Benis nella gara Che praticamente vi farà tornare in Free Mod Perché cliccate X un po' prima E dovete riavviare la gara Quel pezzo scoccia un po' se non vi esce un po' di volte Però provatelo, fate questo glitch che conviene al 100% Funzionante ancora Niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un like, un commento Iscrivetevi al canale E da Orkover è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Bella! Ciao!